Facilitare l'accesso delle imprese alle infrastrutture e alle competenze dell'università, valorizzare i risultati della ricerca con un occhio al potenziale commerciale e sostenere la creazione di spin-off, start-up accademiche coltivando nuove idee imprenditoriali e per farlo organizzare eventi e iniziative di trasferimento tecnologico e networking. Nasce così il punto impresa unima dell'Ateneo del Capoluogo intitolato Adaldo Moro. È partito nell'escorsiore ma può già contare sullo sviluppo di un prototipo in fase di commercializzazione, laboratori pubblico-privati e progetti di dottorato e creazione di imprese internazionali. La immagino che l'impresa venga dentro l'università, acquisisca una serie di competenze facendoci domande specifiche rispetto a un know-how che noi possiamo garantire nell'ambito dell'innovazione e posso uscire dalla stessa porta avendo coscienza di poter partecipare a tanti bandi che hanno come voce e codice di entrata proprio la ricaduta dell'innovazione nel territorio. Ci saranno dei colleghi i quali interagendo con tutti gli uffici della Università di Bari faranno una raccolta di tutti i servizi che saranno, che sono loro offribili di modo che chiunque vada a questa sorta di sportello unico nel senso che farà la sintesi, la summa di tutto quello che l'università potrà offrire consentendo anche allo studente innanzitutto una sorta di orientamento in ingresso.